Qual è il ruolo dell'artista, se non quello di trovare nuovi mezzi espressivi quando le parole non bastano più? Ecco, questa sera ospitiamo una donna che ha fatto di questa ricerca una vera e propria ragione di vita. Signore e signori, è con sincera ammirazione che introduco la più grande artista contemporanea vivente, la più intensa e disturbante performer del mondo, Marina Abramovic! Perfomance Marina Abramovic è arte, Marina Abramovic è vita, Marina Abramovic è corpo, performance Art is life, life is art, body is life, performance is onion performance. Ricco, Credo! Ricco Perfomance Perfomance Beh, 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 grazie, grazie In questo momento così Così toccante Ecco Marina Abramovic ci ha donato Una performance unica, irripetibile, capite E l'ha fatto qui e ora Solo ed esclusivamente per noi Pensate la fortuna E ora dopo aver camminato Per oltre 2500 km sola Sola, sola Sulla grande muraglia cinese Dopo essersi tagliuzzata il ventre Con delle lamette Dopo aver urlato a squarciagola Fino a perdere la voce È di nuovo in Italia È di nuovo qui Io Marina Abramovic È iniziata la performance È iniziata la performance? Non lo chiedo È una preparazione Sentite quanta tensione Chi è? Chi è? Chi è? Cos'è? Questa è performance Ma dai Dico Questa non è performance Questa è performance Anche questa Già due Già due Già due Questa La riconoscere di 3000 Questa è performance Questa è proprio performance Questa è per festa di bambini È schiazzante È un artista Schiazzante Schiazzante Perché Dovete sapere che quella di Marina Abramovic È un'arte Libera Semplice Quasi Infantile Per certi Perché? Perché ho detto infantile? Performance Io quello che intendevo dire Quello che intendevo dire Tenendo giù le mani però È che le performance di Marina Abramovic Si basano proprio sullo scambio di energia Cioè lei accumula Accumula L'energia E poi te la restituisce tutta Di Cosa P***a Così Così è tanta Allora Occhio Perché è tanta energia E meno Per favore Mene energia Perché Mi gira anche un po' la testa Allora Signora Allora Signora Signora Allora Io sono buono Bravo e bello Tutta sta energia Comincia a essere un po' E a parte che Io ho capito Io ho capito perfettamente Tutto è molto chiaro Basta Vogliamo spiegarlo a quel signore lì Che forse vuol venire su A prendersi un po' di energia Lei Io ho già dato Vuol salire un attimo Sul Non tutti Possono capire Arte contemporanea Non tutti Possono fare Arte contemporanea Tutti però Possono Pagare Per vedere Arte contemporanea Queste sono parole Sono parole importanti Che Non ho spicci Mi dispiace Perché ho lasciato il portafogli Anche Anche volendo Io Anche volendo Se lei dopo passa Io ho qualcosa Stacco bottiglia Amazzo famiglia Adesso No ma li ho A parte che Ho proprio Orca mia Performance Pezzente È andata Una grandissima performance A lei E anche a tutta la sua famiglia Comunque Diolta la sua famiglia Per ogni